Ciao a tutti, oggi siamo qui su Roblox con un nuovo video, finalmente, lo potete dire, che avete detto questo che fine ha fatto avrà avuto un missile nel culo. Prima supporta il video e il canale per altri video epic. Qui ero così incoglionito che mi ero dimenticato il logo in cui stavo giocando com'era. Qui tengo un occhio che neanche un lupo in calore non ha. Qui faccio passare la gente più esaurita di me così perdono loro e io passo come un poione di prima fila di questo grande mondo di merda. Qui l'app che faccio i video quasi tutti i giorni non mi ricordavo come era fatto, che bastardo di dio che sono, mamma mia. Immaginate se capita il logo di quel sito di 20 colori, lo noterei a 150 metri di distanza. Ora mi sono ricordato Deoreo, e mi sono ricordato anche di questo video che racconto una esperienza indimenticabile, se non lo hai visto vai a vederlo dopo a questo video, dura solo due minuti. Ma come sono forte non è sto sbagliando neanche uno. Porco Gesù ci volevo solo io per aprire questa bocca di merda per perdere dopo 13.938 passi che ho fatto. Questo è il buco che ha Latrina nel culo di merda che si ritrova. Se non sai chi è Latrina è una ragazza di merda, per essere più sentimentali è un ragazza che porto dei video sul mio canale grazie a Plotagon. Quindi dopo a questo video vai a guardare i due video che sono usciti più un video che spiego cosa porterò in quella serie, in questi giorni dovrà uscire anche un nuovo episodio con Latrina Rompicazzi e la Mica e la Mi. Praticamente l'app che ho da 165 anni, e non mi ricordo come è fatta. A puttane mant? Mi ha fatto venire un colpo nel mio cazzo di buco del culo, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima.